Il bagagliaio della nuova Espace prevede un ampio volume. Nella versione 5 posti, il volume sotto al pianale copribagagli è addirittura più ampio e misura 660 decimetri cubi. Per srotolare il pianale copribagagli, tirare leggermente la maniglia per sganciarlo, quindi accompagnarne il movimento. Per rimuovere il pianale copribagagli, girarlo in modo tale da liberare i punti di fissaggio. Per rimontarlo, disporre il pianale copribagagli sui punti di fissaggio e tirare la maniglia per riposizionarlo. È possibile posizionare il pianale copribagagli all'interno del bagagliaio, utilizzando le fascette autofissanti specificatamente previste. Offer le sc максимale copuzano incentivare i punti di fissaggio e tirare il pianale copibagli sui punti di fissaggio. E poi ci sto s gravito in modo tale con le fissage artiere alwindare la maniglia e finire il pianale copini di fissaggio. Pagliaio fisso, per rimuovere il pianale copribaggli sui punti di fissaggio al pianale.